Bella a tutti ragazzi, io sono Adri e benvenuti in questo nuovissimo video di Grand Theft Auto Online. Per quanto riguarda il video di oggi andremo a parlare dell'aggiornamento che uscirà il 13 di dicembre che appunto è stato confermato in questo articolo della Rockstar, ma oltre ad andare a parlare delle cose che sono state dette all'interno di questo articolo e all'interno di precedenti articoli, facendo insomma un po' un recap in modo tale che se qualcuno di voi si è perso queste informazioni le potete praticamente vedere tutte all'interno di questo singolo video, andremo a parlare anche di alcune cose che non sono proprio ufficiali ma sono molto probabili. Di cui parleremo poi verso metà fine video. E tra queste cose ci sono parecchie cose interessanti secondo me. Iniziamo allora con questo articolo dell'8 di dicembre, come vedete Los Santos Drag Wars, che appunto sarà il nome effettivo di questo nuovo DLC, aspettate che ve lo traduco in italiano se riesco. Ok, eccolo qua, l'ho appena tradotto in italiano, almeno così se volete leggere anche voi insieme a me, mentre che leggo praticamente lo potete vedere qui a schermo. Quindi come prima cosa, ripeto, il DLC sarà disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su PlayStation 4 e Xbox One. Quindi voi che siete su queste piattaforme, state tranquilli, usciranno anche per le vostre piattaforme, non c'è bisogno ancora di fare per forza l'upgrade a PlayStation 5 o Xbox Serie X ed S. Una cosa secondo me qui importante che hanno detto è un nuovo tipo di caos psicoattivo. Perché ho sottolineato questa cosa? Perché praticamente qui all'interno, come vedete, ci sono questi conigli, e secondo me questi conigli danno insomma un po' quel presagio di questo caos psicoattivo. Vai dritto a Blaine County e unisciti al vecchio amico Nervus Ron, quindi avremo Ron all'interno di questo aggiornamento. Per chi di voi non lo conoscesse è un personaggio della storia di GTA e possiamo definirlo il migliore amico di Trevor, che insieme a lui gestiva tutti i vari business. E lo abbiamo anche visto già all'interno di GTA Online. E ha una nuova banda di disadattati fuori dallo Stato in una missione per lasciare il segno nel commercio di sostanze psichedeliche di Los Santos. Combatti un'improbabile coalizione di ricchi hippie e motociclisti dal grilletto facile mentre prepari potenti allucinogeni. In laboratori elaborati o con il tuo enorme set di chimica rotante. Nel capitolo di apertura di un nuovo e vasto aggiornamento della storia in due parti per GTA Online. Quindi in questo pezzo praticamente ci hanno dato tantissime informazioni, sostanzialmente appunto che la storia probabilmente sarà noi che avremo questo business. E insieme a Ron e a questa banda dovremo combattere sia i ricchi hippie che i motociclisti dal grilletto facile. Quindi qua praticamente già ci hanno dato le due fazioni. Mentre prepari i potenti allucinogeni in laboratori. Quindi in questo caso ci hanno confermato che ci saranno più laboratori e non un singolo laboratorio. E saranno inerenti agli allucinogeni. Come vi dicevo questo è il capitolo di apertura di un nuovo e vasto aggiornamento della storia in due parti per GTA Online. Quindi sostanzialmente questa è la prima parte e poi ci sarà una seconda parte di questo aggiornamento. In realtà nell'altro articolo che ci avevano fatto uscire praticamente avevano detto in più parti. Quindi più parti può essere due parti come può essere più di due parti. Però in questo caso effettivamente ci hanno confermato che sono due parti. Poi ci dicono attenzione lo Santos Drag Wars contiene una serie di incredibili effetti collaterali. Tra cui una nuova attività commerciale da gestire che appunto saranno questi laboratori di cui prima abbiamo parlato. Nuovi veicoli e missioni e aggiornamenti esperienziali. E questa è solo la prima dose. Preparati per molti altri eventi entusiasmanti. Tra cui alcuni allegri dirottamenti delle vacanze, aggiornamenti significativi della storia e del gameplay e molto altro ancora. Quindi non solo avremo una nuova attività commerciale da gestire all'interno di questo aggiornamento. Bensì avremo nuovi veicoli, nuove missioni e questi nuovi aggiornamenti per quanto riguarda l'esperienza di gioco. Di cui effettivamente ci avevano parlato nell'articolo precedente. E chissà se poi aggiungeranno anche altre cose. Ed infine qui praticamente ci dicono che ci saranno significativi aggiornamenti per quanto riguarda la storia e il gameplay. Quindi avremo un bel po' di missioni che andranno ad ampliare la storia di GTA Online. E questo raga è quanto per quanto riguarda questo articolo qua in particolare. In realtà era molto molto breve. Tornando adesso sull'immagine che ci hanno rilasciato insieme a questo articolo. Innanzitutto una cosa importante che possiamo vedere è che questo sarà il nuovo personaggio che verrà introdotto. Che sarà appunto Dax. Dopodiché possiamo notare qui in basso a destra il nostro caro amico Ron. Vecchia conoscenza ormai. Qui in alto possiamo vedere quello che probabilmente potrebbe essere un nostro dipendente. O comunque un nostro collaboratore per quanto riguarda il nuovo business. La nuova attività che sarà introdotta all'interno di GTA Online. Mentre con i due personaggi qui a sinistra possiamo notare dei nuovi tatuaggi. Innanzitutto è un nuovo tipo di completo e una nuova maschera. Oltre a questo l'arma che sta tenendo in mano non è nuova però la livrea sull'arma sì. Quindi probabilmente avremo anche delle nuove livree. E poi per quanto riguarda le altre cose come vedete innanzitutto abbiamo l'aereo. Che sicuramente sta a significare che ci saranno delle missioni sicuramente con l'aereo. Tipo le missioni praticamente non so se vi ricordate che dovevamo fare nella storia con Trevor. Dove praticamente facciamo le consegne con questo aereo qua in particolare. In basso a sinistra possiamo notare il treno. Quindi probabilmente ci saranno delle missioni che coinvolgeranno il treno. Magari dovremmo far deragliare il treno o cose così come anche questo durante la storia. Possiamo notare qui il gruppo di motociclisti che sicuramente saranno quelli che ci dovranno attaccare. Che ci contrasteranno insomma la nostra controparte di questo DLC. E quindi probabilmente questo qui potrebbe essere o una missione con questo camion che andremo a fare. Oppure praticamente una consegna una vendita che andremo a fare dal nostro business. Se vi siete persi il video dell'altro ieri praticamente al volo vi spiego anche le cose che erano uscite con questo articolo. Sostanzialmente questa sarà una nuova auto che sarà introdotta all'interno di GT Online e sarà gratuita durante il periodo delle feste per chi ha partecipato alla sfida che abbiamo vinto. Infatti come vedete qui abbiamo raggiunto l'incredibile cifra di 4 trilioni di dollari nella sfida dei colpi che abbiamo avuto praticamente alla fine di novembre. Grazie a questo risultato otterremo gratuitamente la declasse da Oma Coupé. Come vedete in questa immagine qua c'è questo personaggio all'interno di un appartamento di lusso perché sembra all'interno di un appartamento di lusso con il telefono in mano e come contatto abbiamo il nuovo contatto di Dax. In breve vi dico i miglioramenti generali e gli altri aggiornamenti che verranno fatti tramite questo aggiornamento. Innanzitutto possiamo raggiungere più rapidamente i contatti nel Live Fruit nel nostro telefono selezionando appunto quali contatti visualizzare o nascondere tramite il menu interazione. Poi finalmente il Terrorbyte può essere utilizzato per lanciare missioni di vendita aziendale in tutti i tipi di sessioni inclusi le sessioni solo invito cosa che purtroppo ancora non era disponibile. E praticamente questa funzione del Terrorbyte era diventata inutilizzabile a meno che non eravate in una sessione pubblica. Finalmente le missioni di storia del casino di Agatha Baker potranno essere fatte da soli quindi non ci saranno più bisogno di due giocatori almeno per fare queste missioni bensì li potete fare anche da soli. E questa secondo me è una gran cosa perché sono molto divertenti da fare in più praticamente se li fate ci rientrate praticamente del costo di acquisto del vostro attico di lusso. E come ultima parte dei miglioramenti generali ci hanno detto che su PlayStation 5 e Xbox Series X aggiungeranno riflessi con ray tracing rendendo i riflessi in tempo reale su molte superfici tramite l'impostazione grafica della modalità fedeltà. Speriamo che questa volta sarà una cosa fatta per bene e non la cosa che ci era stata tra virgolette venduta per l'acquisto del gioco per PS5 e Xbox Series X e lo andremo a testare insieme appena esce l'aggiornamento. Per quanto riguarda gli aggiornamenti sui veicoli adesso quando andremo ad acquistare un veicolo arriveranno più rapidamente al garage quindi non dovremo più aspettare uno o due minuti. Alcuni veicoli armati personalizzati ora possono essere utilizzati nelle gare ove appropriato le armi verranno disattivate al di fuori delle gare GTA. Le gare GTA per chi non sapesse è quelle dove praticamente potete sparare e utilizzare le armi. Quindi se avete la vostra Ignus armata a quanto pare adesso potete utilizzarla per le gare. Le biciclette verranno aggiunte all'elenco dei veicoli che possono essere richiesti al tuo garage personale quando chiami il meccanico. E per quanto riguarda i giocatori su PS5, Xbox Series X e Series S possono godere dell'accesso completo all'Ao Special Workshop senza dover completare la gara introduttiva di Ao che fino a poco fa si doveva fare. Oltre a questo ci sarà anche un aggiornamento sull'economia. In realtà l'unico aggiornamento di economia è solo il primo punto perché il secondo punto non è un vero e proprio aggiornamento sull'economia ma ne parliamo tra poco. Il completamento delle missioni di vendita del carico di veicoli nelle sessioni pubbliche assegnerà un bonus ad alta richiesta allineandolo a tutte le altre attività commerciali mentre i pagamenti delle missioni di vendita del contrabbandiere verranno triplicati in modo permanente. Quindi praticamente tutte le vendite che fate dall'hangar verranno triplicate in modo permanente quindi per sempre e direi finalmente perché con l'hangar non si guadagnavano lira. La seconda parte dell'aggiornamento sull'economia sarebbe aumentare le share card ma in realtà questa cosa non è che a me personalmente interessi più di tanto. Quindi se voi acquistate le share card buon per voi. Tra l'altro se avete bisogno di soldi raga se volete potete fare l'abbonamento al mio canale qua sotto a partire da 1,99€ al mese e praticamente potete venire la sera in live con me e fare i colpi insieme a me e sostanzialmente vi fate molti più soldi con molto meno soldi spesi rispetto a quelli che vi fa fare la Rockstar. In questa immagine invece ci avevano spoilerato tra virgolette il nuovo business dove anche qua possiamo notare Dax, Ron e di nuovo questa ragazza che abbiamo visto anche nell'immagine che vi ho fatto vedere prima e sempre qui possiamo vedere il Brickade. Ma un'altra cosa importante che possiamo vedere all'interno di questa immagine è questo taxi. Per quanto riguarda questo taxi è molto probabile che sarà un nuovo modo di teletrasporto all'interno della mappa come praticamente è già disponibile nella storia dove chiamate un taxi, praticamente impostate la meta e vi teletrasporterà tra virgolette facendovi saltare il viaggio direttamente a quel posto. Questi miglioramenti all'esperienza e molto altro arriveranno insieme al prossimo aggiornamento di GT Online per tutte le piattaforme, ripeto, quindi anche su PlayStation 4 e Xbox One in arrivo a fine mese dicono qua, quindi in realtà come sapete l'aggiornamento esce il 13, cioè martedì prossimo, quindi probabilmente la seconda parte potrebbe arrivare a fine mese. Qui praticamente ci ridice la stessa cosa che hanno riscritto sostanzialmente nell'articolo più recente, ossia che dobbiamo fare le missioni con volti familiari che appunto sarebbero on e questi imprenditori disadattati. Inoltre aspettati la flotta di nuovi veicoli, eventi mondiali eccetera eccetera e missioni. Qui praticamente ci ringraziano e ci chiedono di continuare a lasciare dei feedback per continuare a cercare di aggiornare il gioco sulle cose che richiediamo noi. Arrivando praticamente alla parte un po' più speculativa del video, come vedete questo ragazzo sostanzialmente ha detto che molto probabilmente ci sarà una nuova versione di Entity modificabile DAO. Ed inoltre secondo questo post su GTA Forum ci saranno delle nuove armi, ossia il fucile della polizia, il mitra antisommossa, una versione speciale dello stun gun e per bastone credo sia inteso il manganello della polizia, quindi sostanzialmente verranno introdotte un bel po' di armi di polizia. Questa qua ripeto non è una cosa ufficiale, quindi prendetela insomma con le pinze. Inoltre ci dice che ci saranno 50 nuovi slot per veicoli, quindi effettivamente ci saranno tanti veicoli che verranno introdotti, perché per aggiungere 50 nuovi slot per veicoli effettivamente ci saranno tanti veicoli in arrivo. Probabilmente otterremo una nuova officina per veicoli all'interno del Giagalo Hideout e per quanto riguarda il tema delle missioni, come vedete dice la stessa cosa che vi ho detto prima all'inizio del video. Sostanzialmente appunto che dovremmo lavorare con l'aereo, che dovremmo combattere contro queste gang rivali, l'incidente ferroviario quindi col treno e molto altro ancora. Oltre a questo potrebbero uscire nuovi oggetti collezionabili che sarebbero sotto forma di pupazzi di neve che praticamente tipo le action figure, le carte insomma che potevamo raccogliere in giro per la mappa di GTA Online ci daranno o soldi o RP insomma cose di questo tipo qua. E per terminare raga sicuramente uscirà il trailer di questo nuovo aggiornamento, se non uscirà oggi comunque uscirà nei prossimi giorni, generalmente lo fanno uscire sempre prima dell'uscita del DLC, quindi è molto probabile a mio avviso che esca oggi in modo tale che tra virgolette lasciano abbastanza tempo per far girare questo trailer e per dare più pubblicità ancora a questo DLC che è in uscita su GTA Online. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando lasciate un bel like se ancora non l'avete fatto e tra l'altro se ancora non siete iscritti al mio secondo canale andate qua sotto, vi lascio il link in descrizione del mio secondo canale che anche lì porta un bel po' di video di GTA, passate anche da lì raga. Detto questo da Adri è tutto, un salutone, noi ci vediamo con il prossimo video, domani mi raccomando non mancate oppure stasera in live se ci siete alle 21.30 sempre qui su YouTube. Noi ci vediamo alla prossima, da Adri è tutto, bella!